Cristo ritorna, rivela la sua verità. Lettera 6. Queste lettere presentano conoscenze che gli uomini, nel corso dei secoli, hanno desiderato ardentemente avere ma non hanno ricevuto, perché il loro sapere scientifico terreno non era sufficiente per metterli in grado di capire. Così era anche quando io fui in Palestina nella persona di Gesù, ripetutamente spiegai in vari modi la verità dell'esistenza universale, ma nessuno comprese. Come la maggior parte di voi si renderà conto, io non sono venuto a voi in questa epoca per portarvi una nuova religione, un codice morale migliore o un nuovo Dio da adorare. E nemmeno predico il pensiero positivo, come fanno i vostri metafisici. Il vostro pensiero positivo, umanamente concepito, che magnetizza a voi i vostri umani bisogni e desideri, e i mezzi per realizzare le vostre ambizioni, non fa altro che rafforzare la vostra spinta egoica. Tutte le cose benedette e abbondanti saranno manifestate in voi e nella vostra vita nel momento in cui vi rendete conto che, l'intero universo è coscienza universale e trascendente, resa visibile quando essa assume forma materiale attraverso l'attività dell'ego. Il vostro vero scopo nel cammino spirituale è liberarvi dalla schiavitù dell'ego e creare un contatto sempre più puro con la coscienza divina. Il vostro destino finale è riconoscere la sua onnipresenza sia dentro voi stessi che in tutte le vostre attività quotidiane. Il vostro traguardo spirituale più elevato è arrivare a quel momento spiritualmente esaltato in cui, finalmente, vi rendete conto che la vostra mente umana e i suoi desideri sono solo limitati e, pertanto, non potranno mai portarvi la felicità e la realizzazione che sperimenterete quando abbandonate la vostra personalità e venite alla coscienza divina chiedendo solamente una via più elevata, una vita più abbondante e il vero proposito spirituale che solo voi potete realizzare nel vostro stato terreno. Tuttavia, per aiutarvi a raggiungere questo alto livello di realizzazione sto per approfondire le origini e la funzione dell'ego. Contemplando il vostro mondo, io vedo una dimensione attualmente controllata dalla forza egoica. Ogni male nella vostra attuale società decadente, nelle vostre grandi città senza anima, nasce dalla forza egoica. È la fonte di ogni attività malvagia, menzognera, perversa, attualmente esistente sul vostro pianeta. Controlla i mezzi di comunicazione, la vostra tv, le vostre famiglie, le vostre nazioni. Produce guerre ovunque sul vostro globo. Crea un ripugnante miasma di basse energie e di coscienza, percepibile dalle entità spirituali più elevate, ma troppo orribile da contemplare. Se la vostra attuale coscienza è permeata dall'amore per le cose possedute e da un'incapacità di condividere con gli altri, escogitando modi e mezzi per arricchirvi a spese altrui, rubando, non riuscendo a svolgere il vostro lavoro coscienziosamente o ad avere un rendimento adeguato, brontolando, lasciandovi andare a critiche, sarcasmo, giudizi, emarginazione, denigrazione, ostilità, intolleranza, odio, gelosia, aggressività, impulsi violenti, ruberia, menzogne, rapporti falsi ed ambigui, calumnie, siete guidati dall'ego. Il vostro ego ha il controllo e voi troverete difficile passare attraverso il miasma della coscienza egoica per poter vedere la realtà. Per questa ragione io sono venuto, per mezzo di queste lettere, ad aiutarvi a capire esattamente che cosa vi sta bloccando nelle vostre condizioni attuali, il cui orrore era inimmaginabile per la mente umana un secolo fa. Ora sto per spiegare più compiutamente l'ego al momento del vostro concepimento, durante il rapporto, mentre la coscienza di vostro padre si elevava lungo la sua spina dorsale, sempre più su, verso la sommità del suo capo, e la tensione aumentava verso il suo culmine, la sua coscienza toccò brevemente la coscienza divina, creando un punto di inizione, una piccola esplosione, che egli sperimentò come orgasmo, e, dopo, un'infusione di coscienza divina fu immessa nel suo seme per dare vita all'ovulo della madre. Il momento dell'unione con la donna e dell'esplosione della tensione in un uomo, al momento dell'orgasmo, ricostruisce il momento del Big Bang, quando l'unità della coscienza padre-madre esplose in energie separate e le prime particelle elettriche e la materia casuale presero forma. La coscienza padre forniva l'energia di attività e slancio e la coscienza madre forniva l'adesione per dare forma e sostanza alle particelle elettriche. Questi sono gli impulsi primari che danno vita e forma all'uomo e alla donna. Voglio che comprendiate che la creazione non è una creazione di materia impregnata di coscienza. La creazione è la forma visibile degli impulsi primari attirati e legati in forme ed entità individuali che esprimono tutte degli aspetti e combinazioni differenti degli impulsi primari in una miriade di modi. Perciò, gli impulsi primari sono la realtà che i vostri occhi, le vostre orecchie, il vostro olfatto, il vostro tatto, vi fanno percepire come materia solida, ma in realtà sono impulsi di coscienza individualizzati per essere sperimentati, intellettualmente compresi ed emotivamente apprezzati. Al momento del concepimento, quando il seme si unisce all'ovulo e a luogo l'accoppiamento, i cromosomi della coscienza maschile si uniscono ai cromosomi della coscienza femminile. Questa è un'unione fisica tra la coscienza del seme di vostro padre e la coscienza dell'ovulo di vostra madre, potenziata dal divino. Così i cromosomi della coscienza maschile e femminile portano l'impronta del DNA genetico di entrambi i genitori. Il momento dell'unione fisica tra seme e ovulo è condotto su due livelli di creatività. L'infusione di coscienza divina divenne la vostra anima, incarnata nell'unione della coscienza umana del seme e dell'ovulo. Venne creata la fisicità, potenziata dalla coscienza padre e madre vita, che ha controllato l'attività e l'unione di cellule conisce, producendo la crescita e lo sviluppo graduale del vostro corpo fisico, che è in realtà coscienza resa visibile ad ogni livello del vostro essere e nient'altro. La vostra anima rimase come una fiamma inviolata, metafora di padre e madre vita, profondamente inviluppata entro gli impulsi fisici di attività, attrazione e repulsione. Questi divennero la vostra individualità e personalità terrene. Incorporati all'interno degli impulsi vitali trascendenti della coscienza divina padre-madre, questi impulsi di coscienza presero ora il controllo del processo di creazione della vostra coscienza fisica e divennero la forza motrice dietro la vostra personalità. Assieme, attività e attrazione lavoravano per costruire una cellula conscia dopo l'altra, secondo le istruzioni di coscienza contenute nelle molecole DNA della coscienza. Sia la personalità sia il corpo sono il prodotto di questi impulsi umani dell'attività attrazione e repulsione. Mentre la coscienza universale rimane per sempre in equilibrio nello spazio, e, pertanto, non individuabile in quello stesso spazio, nelle frequenze vibrazionali gli impulsi primari dell'attività attrazione e repulsione operano insieme nella dimensione visibile, apparendo ai vostri sensi sotto la forma di elettromagnetismo. Sia la coscienza universale sia la vostra anima rimangono indisturbate dentro il silenzio e la quiete dell'equilibrio nello spazio. La creatività della coscienza terrena ha luogo all'interno dello spazio e del tempo e delle frequenze vibrazionali variabili della coscienza materializzata. Perciò voi assumete forma vivente e continuate ad esistere all'interno di due dimensioni. Una dimensione è invisibile, la coscienza divina, e l'altra dimensione visibile è tutto quello che l'essere umano vivente riesce a percepire o a comprendere, finché l'evoluzione spirituale non innalzi le frequenze vibrazionali della sua coscienza umana al piano spirituale e un barlume di comprensione non penetri la sua coscienza terrena. Con il procedere di questo processo di illuminazione graduale, la coscienza umana elevata opera poi consapevolmente sia dentro la dimensione invisibile sia dentro quella visibile. Più sono elevate le frequenze vibrazionali della coscienza individualizzata, più sono elevate e perfette le forme create nella mente, più sono basse le frequenze di vibrazione, più sono separate dalla perfezione universale dell'amore le forme create nella mente individualizzata, interamente posseduta dall'impulso egoico. Dal momento della unione tra il seme e l'ovulo, l'ego assume il controllo del vostro feto che si sta sviluppando. Il nuovo esserino diviene un io, provando immediatamente soddisfazione e insoddisfazione nell'utero, a seconda della sua sensazione di agio o disagio e di quello che accade alla madre. Quando nasceste, i vostri istinti di sopravvivenza, impressi con la profonda conoscenza primordiale dell'essere creato, nascosti in ogni cellula vivente del vostro corpo, vi spinsero a respirare e diventare consapevoli di una perdita e di un vuoto emotivo, al momento della separazione dal comfort dell'utero avvolgente che furono poi avvertiti come un vuoto fisico e come bisogno di nutrimento fisico. Così nacque il pianto del vostro ego. Quando piangevate, vostra madre vi dava nutrimento, che era profondamente soddisfacente, sia fisicamente che emotivamente. Quando i vostri bisogni erano pienamente soddisfatti, voi potevate scivolare di nuovo in uno stato di equilibrio nel sonno. Quando vi svegliavate dal vostro equilibrio, avevate una sensazione di insicurezza, con l'equilibrio ora diviso in consapevolezza mentale ed emozionale, vi ricordavate che la madre e il latte placavano l'insicurezza bisognosa e così, di nuovo, piangevate. I vostri bisogni venivano soddisfatti. Così si è sviluppata la vostra spinta egoica. A volte piangevate e veniva umanamente deciso che non era ancora il momento del pasto e vi lasciavano piangere per un po'. Questo creò la consapevolezza che non sempre i bisogni venivano soddisfatti immediatamente e che dovevate adattarvi. Voi o sceglievate la rabbia e piangevate ancora più vigorosamente o scivolavate nell'accettazione. La vostra scelta della reazione dipendeva dalle caratteristiche della spinta egoica impressa nella vostra coscienza alla nascita. Nell'una, nell'altra forma di spinta egoica era da condannare o da giudicare. Erano il naturale risultato del fattore creativo dell'ego che garantisce l'individualità. Come ho spiegato nella mia ultima lettera, l'ego è il guardiano dell'individualità. Se non aveste questo impulso innato a piangere per ottenere ciò che volete per essere felici o rifiutare ciò che vi rende tristi, vi trovereste in un limbo del nulla. Se non scappaste quando vi trovate ad affrontare un pericolo o se non chiamaste aiuto quando siete in pericolo, potreste morire. Se non aveste pianto, preteso cibo, quando siete nati, avreste potuto morire di fame. Se non aveste accolto il latte materno e se non vi foste rannicchiati vicino a lei con calore, forse non avreste mai sviluppato un legame stretto e amorevole con lei. Senza la spinta egoica non esisterebbe alcuna creazione, individualità, soddisfacimento del bisogno, protezione, calore di risposta, né alcun amore umano. Senza la spinta egoica non ci sarebbe alcuna autodifesa, protezione di sé, sopravvivenza. Tuttavia, nella spinta egoica fondamentalmente l'io dell'individuo è impresso soltanto il bisogno di soddisfacimento di sé e di sopravvivenza. Nell'infanzia, l'io dell'ego è governato dalle simpatie e dalle antipatie, dalle voglie e dal rifiuto di ciò che non è voluto, nonché da abitudini formate da una costante ripetizione di sentimenti. Si formano cattive abitudini sotto forma di reazioni egoiche inaccettabili alle esperienze personali e all'ambiente, e queste, a loro volta, si imprimono nell'inconscio o mente subconscia e rimangono nascoste. Tuttavia, esse sfociano in modelli di comportamento ripetuti, quando la memoria delle circostanze e modalità di comportamento precedenti inconsciamente le richiama alla mente. Ora, la mente subconscia e la mente conscia iniziano a lavorare insieme per sviluppare la personalità. Molti dei comportamenti diventano dei comportamenti condizionati e molto difficili da spezzare. Quando la persona è inconsciamente programmata con abitudini di pensiero e di comportamento fortemente egocentrici e trova difficile vivere in armonia con gli altri, allora quella persona va da uno psicologo per trovare aiuto nel districare le complessità dei problemi mentali e emozionali. Fino a quando la mia verità dell'esistenza non sarà stata pienamente compresa e i principi vivificanti non saranno diventati delle direttive costanti per le abitudini di pensiero e le reazioni alle esperienze di vita, il dolore e la sofferenza causati dall'indulgenza ignorante alle spinte dell'ego, persisteranno. La Chiesa descrive questa difficoltà umana come una tentazione di Satana. Non è nulla del genere. Si tratta di un processo naturale determinato dalle reazioni incontrollate alla vita alimentate dalla spinta egoica il cui unico scopo è portare felicità e appagamento individuale, soddisfazione dei bisogni oppure intimità, indipendenza, sicurezza, pace, tutti rivolti alla sopravvivenza. Deve essere chiaro che non c'è nulla di male nella spinta egoica. È lo strumento necessario della creazione. È l'individuo stesso che causa gli squilibri nella vita permettendo alla spinta egoica di avere il pieno controllo della sua personalità senza pensiero o considerazione alcuna per le altre persone. Anche questo non è da giudicare o da criticare in quanto la persona dominata dalla spinta egoica non conosce altro modo di pensare o di operare nella dimensione terrena. Il bambino non sa nulla dell'autocontrollo se non ciò che gli viene insegnato dai genitori e dagli insegnanti a scuola. Perciò gli errori che commette nel reagire alla vita e ai suoi alti e bassi non possono che essere accettati con spirito sereno dai genitori e dagli insegnanti dato che il bambino non ha alcuna comprensione di ciò che lo sta spingendo. Se vuole qualcosa egli la vuole subito e si chiede perché mai non dovrebbe averla. Nella sua mente non c'è nient'altro che questo. Egli vede qualcosa che gli piace la vuole. È crudele dire bruscamente al bambino no non puoi averlo. Il suo intero sistema viene offeso e aggredito. Sin dalla primissima infanzia il processo di formazione deve iniziare dalla logica e dalla rassicurazione affermando il suo diritto di sentirsi sicuro nel proprio ambiente. Il suo senso di sicurezza dovrebbe essere sviluppato spiegandogli il modo giusto di esprimere i suoi desideri. Deve essere l'amore non l'irritazione o la rabbia a scegliere le parole che dicono al bambino perché non può avere ciò che desidera. Il bambino sentirà il messaggio quando viene trasmesso con amore. Quando il messaggio viene trasmesso con rabbia ciò stimola i suoi impulsi egoici più profondi e inizierà ad assumere forma come risentimento evidente o nascosto o come una sensazione di profonda frustrazione che contamina l'ego riducendo il naturale senso di validità interiore del bambino. Un bambino ha bisogno di questo senso di validità personale che non dovrebbe essere soggiogato o distrutto. Occorre che i genitori o gli insegnanti facciano notare molto chiaramente che anche le altre persone nel mondo hanno le loro necessità i loro diritti e i propri possedimenti il loro desiderio di pace e piacere. nessuno nemmeno un bambino o un adulto ha il diritto di sconvolgere un'altra persona per ottenere la propria soddisfazione. Se un altro bambino picchia il bambino facendolo piangere è solo naturale per la spinta egoica voler reagire lottando egli è programmato a difendere se stesso contro l'altro. Devono essere i genitori e gli insegnanti a far rilevare che ripagare con la stessa moneta vendicarsi in un conflitto non fa altro che provocare un escalation portando altro dolore ad entrambi i bambini e per questo motivo vendicarsi è totalmente senza senso. Meglio ridere e allontanarsi e invece di permettere all'irritazione e all'offesa di continuare nella mente è ancora meglio portare il problema in preghiera alla coscienza divina e chiedere che l'offesa venga eliminata dalla sua coscienza e cercare dei mezzi per riconciliarsi al bambino bisognerebbe insegnare anche a prendersi del tempo per capire che lui e l'altro bambino sono ugualmente dei figli nati dal momento divino quando un bambino è spiritualmente ricettivo e riesce a trasformare in un' abitudine questa procedura di riconoscimento della sua affinità spirituale con gli altri bambini e tutte le cose viventi e dei diritti degli altri pari ai suoi gli sarà stato fatto il più grande dono spirituale possibile in questo modo la spinta dell'ego viene indebolita dall'impiego pratico quotidiano di amore ispiratore mentre l'io centrale del bambino rimane forte e avrà fiducia in se stesso al bambino dovrebbero essere insegnati i benefici della risata che descriverò e spiegherò in una lettera successiva pertanto un'educazione abile e intuitiva è assolutamente necessaria per indirizzare il bambino verso l'apprezzamento dei diritti delle altre persone uguali ai suoi stessi diritti questa è la legge spirituale che dovrebbe dominare la casa e l'aula scolastica qualunque altra legge in base alla quale giudicare le circostanze è imperfetta e priva di equilibrio il miglior insegnamento non farà assegnamento sulla volontà dell'insegnante sull'atteggiamento perché lo dico io bensì su un riferimento sistematico in ogni circostanza all'amore fraterno e agli uguali diritti degli altri al contempo un bambino non dovrebbe essere addottrinato in abnegazione già che questo tipo di comportamento altruista deve essere spontanea e deve nascere solo dalle percezioni e dagli obiettivi spirituali dell'individuo l'abnegazione nasce dall'illuminazione spirituale da una via superiore da seguire dal rinnegamento del piccolo se per rimuovere le barriere dell'ego che impediscono la sintonizzazione con l'universalità della coscienza divina la vera abnegazione illuminata porta la coscienza spirituale al culmine della gioia non c'è non c'è alcuna sensazione di perdita in nessuna forma per meglio descrivere la realtà dell'anime e dell'ego voglio che uniate le mani con le punte delle dita che si toccano e con i polsi appoggiati l'uno all'altro lasciando uno spazio a forma di coppa tra le mani le vostre mani rappresentano il guscio della coscienza umana di una persona l'ego lo spazio appropriatamente rappresenta l'anima nata dalla vita conscia padre madre al momento del vostro concepimento mentre ai sensi umani sembra essere nulla essa è di fatto una propaggine della totalità e interezza della coscienza divina da cui tutte le cose create hanno preso forma le vostre mani con lo spazio in mezzo rappresentano l'io la vostra mano destra e la sinistra rappresentano due potenti forze della spinta egoica magnetica rappresentano le forze di adesione e rifiuto ma allo stesso tempo giustamente sono la rappresentazione fisica delle energie fisiche conosciute dalla scienza come magnetismo attrazione e ripulsione flettete indietro la mano destra allontanandola dall'altra mano e immaginate di usare questa mano destra per ottenere ciò che volete dalla vita essa rappresenta inoltre ciò che la coscienza umana percepisce come un atteggiamento di avidità verso la vita dedicate del tempo a questo esercizio e rendetevi conto pienamente che la vostra mano destra rappresenta la forza magnetica l'adesione la trazione la gravità evidente in tutta la natura è la fonte di ogni volere e desiderio è l'impulso magnetico che è sempre diretto ad ottenere ciò che è necessario o fortemente desiderato e piacevole nella vita quest'impulso magnetico è spiritualmente inteso ad essere diretto verso scopi costruttivi ottenere tenere costruire realizzare se non ci fossero altre persone o cose viventi nel mondo l'impulso magnetico potrebbe avere il pieno dominio in una personalità e non verrebbe fatto alcun danno è solo quando bisogna prendere in considerazione le altre persone o creature viventi o il carattere e i beni degli altri che l'impulso magnetico incontrollato ad attrarre tirare legare tenere possedere diventa una malattia della personalità se non è equamente bilanciato con i bisogni di tutte le altre creature viventi riportate la vostra mano nella posizione originale a formare la coppa con la mano sinistra ora tirate indietro la mano sinistra ed immaginate che questa mano rappresenti l'impulso magnetico a respingere spingere via schiaffeggiare o difendere voi stessi da qualsiasi abuso della vostra proprietà o dei vostri beni o da qualsiasi attacco al vostro carattere famiglia o lavoro questa mano sinistra rappresenta l'impulso magnetico di rifiuto che è spiritualmente inteso ad assicurare la vostra intimità e salvare la vostra vita è un'arma legittima quando è in gioco la vostra sopravvivenza fisica o emotiva sempre a patto che vi ricordiate che ogni vostra azione è uno schema elettromagnetico attività attrazione repulsione nella coscienza che col tempo si ripercuoterà e si proietterà sul sé sotto forma di un attacco simile la spiacevolezza la spiacevolezza può essere una critica da parte del vostro genitore insegnante datore di lavoro e le parole di autodifesa che vi saltano in mente e fuori dalla vostra bocca sono parole dell'ego pronunciate totalmente in autodifesa ed esprimono l'impulso magnetico di repulsione e rifiuto e come le parole d'attacco del vostro ego prendono fuoco diventando un discorso arrabbiato così l'ego di chi vi ha criticato è similarmente minacciato e si solleva in lui lei con parole di autodifesa contro di voi quello che può essere iniziato come un atto necessario e adulto per indicare un qualche errore e un modo migliore di agire spesso viene immediatamente visto da un ego sensibile e centrato su di sé come un attacco personale quello che doveva essere un momento di crescita si trasforma in un periodo di conflitto rabbia forse anche lacrime rancore continuo e ostilità reciproca in questo modo rapido inatteso inutile si genera un conflitto nella mente espresso a parole persino in azioni e perpetuato attraverso il risentimento e l'odio ricordatevi che ogni attività della mente il pensiero mentale e le reazioni emotive di attrazione e repulsione sono tutte energie creative della coscienza queste energie della coscienza non solo creano le forme spiacevoli di ripercussione ma sviluppano la direzione del carattere e influenzano persino le relazioni in generale e l'ambiente e riducono la forza vitale del corpo portando direttamente a un senso di malessere fisico infezioni virali o malattie a lungo termine la via più elevata quando subite un attacco di qualsiasi genere una via che ha soltanto delle ripercussioni costruttive è ricordare che potete istantaneamente evocare la coscienza divina dalla quale trarrete protezione immediata in ogni eventualità ma questo è possibile solo se riuscite ad andare oltre la spinta egoica magnetica della resistenza con la certezza assoluta che la coscienza divina soddisfa ogni vostro bisogno ora riportate la vostra mano sinistra nella sua posizione originale accanto alla destra rendetevi conto che per tutta la lunghezza di questo esercizio lo spazio tra le vostre mani è rimasto lo spazio esso non è stato coinvolto in alcuna delle attività delle mani ed è così con la vostra anima quando il vostro ego è alacremente all'opera secondo per secondo sempre e per sempre allerta per soddisfare i vostri bisogni e per difendervi da ogni spiacevolezza la coscienza divina della vostra anima rimane nascosta sebbene sia sempre dentro di voi quando ero sulla terra io parlavo alla gente del regno dei cieli dicevo che era dentro di voi ed è proprio così è la vostra anima è il rifugio dell'equilibrio della coscienza divina che vi ha dato esistenza come un futuro uomo o donna desidero ardentemente poter introdurre nelle vostre menti una visione ampia della vostra sorgente dell'essere per permettervi di percepire un po' più chiaramente le vostre origini da dove siete venuti dovete capire inoltre in ogni momento che quando io pronuncio una parola di descrizione di ciò che è in vero inconoscibile io stesso mi trovo nelle più alte infinitesimali frequenze di vibrazione proprio sul filo del grande equilibrio universale da cui tutte le cose hanno attinto il loro essere e assunto la loro forma se parlo di una montagna vi verrà in mente un'immagine ma non conoscerete l'immensità della sua struttura la resistenza della sua roccia i suoi burroni e le sue vette le sue caverne la neve che la copre in tutte le stagioni le cascate che scorrono formando dei laghetti quando i suoi ghiacciai si sciolgono per farvi avere una vaga idea della grandiosità della montagna dovrei entrare in una descrizione dettagliata di ogni suo angolo anche dopo le spiegazioni verbali più dettagliate avreste ancora soltanto delle immagini mentali immaginate cui attingere ancora non conoscereste la montagna se parlo di un uragano posso farvi venire in mente alberi che si piegano fino a terra spinti dai venti tremendi pareti che crollano travi spezzate mattoni e tetti che volano finestre che vanno in frantumi macchine che si capovolgono grandi alberi sradicati ma non conoscerete mai la forza e il rumore di quel vento il fragore dei muri che crollano o il terrore che genera nei cuori della gente che lo deve affrontare finché non l'avrete sperimentato voi stessi ed è così quando cerco di descrivervi ciò che ha dato esistenza a tutto il creato potete solo congetturare non sapere soltanto dopo aver sperimentato da voi stessi tutto quello di cui ho parlato inizierete ad avere una qualche idea di ciò che sto cercando di raccontarvi pertanto che nessuno di coloro i quali leggono le mie lettere discuta con un altro o negli la verità di quello che vi sto insegnando o con futile mie parole poiché vi dico in verità che voi non potete conoscere pienamente ciò di cui non avete fatto esperienza saranno soltanto coloro che mi seguiranno con accettazione e fede nella meditazione quotidiana nella purificazione della coscienza e nella preghiera appassionata per l'illuminazione che alla fine otterranno visioni sempre più profonde poi esperienze di ciò a cui la creazione stessa può accedere la coscienza divina potreste chiedere quale sia la differenza tra la coscienza universale e la coscienza divina la coscienza universale è il regno universale di spazio in cui nessuno può entrare o a cui nessuno può accedere dato che essa riposa in uno stato di equilibrio e di energia autosufficiente la coscienza divina è la riunione degli impulsi originari dentro la coscienza universale che furono rilasciati per diventare sia l'attività sia la sostanza della creazione al momento del Big Bang questi impulsi furono esplosivamente divisi e poi si riunirono in uno stato di contenimento reciproco erano destinati inoltre a lavorare per sempre nel regno creato o separatamente manifestati come energie o insieme controllati in equilibrio è solo questo regno della coscienza divina che la scienza riesce a penetrare forse il seguente paragrafo spiegherà questo più chiaramente coscienza universale incarnazione di impulsi universali impulso di la volontà di creare in contenimento reciproco con impulso di il proposito di fare esperienza di se stesso impulso di intelligenza in contenimento reciproco con impulso di amore impulso di volontà intelligente equilibrio impulso di propositi amorevoli avendovi dato questa descrizione verbale intellettuale della coscienza universale voi non sarete affatto più vicini alla comprensione della sublime magnificenza e grandiosità della potenza né della bellezza gioia armonia estasi contenute nel colore e nel suono oltre la vostra dimensione siamo solo noi che siamo ascesi nelle frequenze di vibrazione della coscienza fino ai portali o ai margini stessi dell'equilibrio della coscienza universale che sperimentiamo e possiamo irradiare il rapimento dell'autoconsapevolezza del vero potenziale senza desiderare di realizzarlo la gioia meravigliosa della realizzazione personale senza alzare un dito uso quest'ultimo termine metaforicamente dato che sebbene mantenga la mia individualità io sono attivo solo nella coscienza e non sono più in alcun modo fisico e non lo sono stato più sin dalla mia ascensione spirituale continuate in altre dimensioni dopo la mia morte sulla croce potreste chiedervi come sia possibile avere tali enormi impulsi universali in uno stato di equilibrio essi sono in uno stato di contenimento uguale reciproco con l'impulso d'amore collegante nutriente che lega e tiene sotto controllo la volontà attiva creativa non posso fare altro che spiegare questo fenomeno con le seguenti semplici parole se ponete il palmo di una mano sopra il palmo dell'altra con le punte delle dita di ciascuna mano che toccano il polso dell'altra mano e poi cercate di separarle tenendole comunque strettamente a contatto l'una con l'altra otterrete un'idea del significato dell'equilibrio o del contenimento reciproco inoltre dovete rendervi conto che sebbene le vostre mani stiano apparentemente esprimendo un fenomeno fisico in effetti esse sono governate da ed esprimono degli impulsi che emanano dal vostro cervello in aggiunta il vostro cervello può essere il veicolo per esprimere idee conisce impulsi ma di fatto la realtà di ogni movimento di qualunque genere è l'impulso non il cervello fisico che è soltanto uno strumento d'espressione di tali impulsi vi ho dato soltanto un resoconto intellettuale della coscienza universale come posso descrivervi la potenza latente la magnificenza di riverenza l'estasi la gioia radiosa lo stato di estremo appagamento e pace e armonia del suo essere anche se poteste prendere in considerazione e rendervi conto che da questa immensità di coscienza l'intero universo ha tratto vita e forma voi non potete percepire più di un elettrone della vasta incommensurabile realtà gioiosa della coscienza universale per comprendere perfettamente la natura della creazione i motivi per cui l'ego funziona come funziona i motivi per cui le entità create sentono gli stimoli che sentono dovete comprendere che la natura e la qualità della coscienza universale è gioia raggiante appagamento felicità questo è ciò che io chiamavo il regno dei cieli dentro di voi dentro la vostra anima negli intimi recessi della vostra psiche che è l'intermediaria tra la radiosità della vostra anima e il seombra del vostro ego ritornare a questo stato dell'essere trascendente glorioso bello felice armonioso è il più profondo desiderio della vostra anima è questo desiderio permanente questa memoria innata inconscia dell'equilibrio e della pace della gioia e dell'armonia che attraverso la psiche spinge l'ego a manipolare l'ambiente nel vostro interesse il suo costante proposito è riportarvi al vostro originale primitivo stato di gloriosa estasi da cui avete attinto la vostra anima il vostro essere e la vostra forma ma l'ego può procurarvi la gioia e il piacere desiderati solamente per mezzo dei due impulsi magnetici emozionali di adesione e rifiuto che sono soltanto degli impulsi materializzati per darvi la vostra individualità perciò il desiderio innato di riunirvi alla sorgente dell'essere viene vissuto nei parametri elettromagnetici di pensiero e sentimento come di più di più di più di ciò che vi ha precedentemente dato una sensazione piacevole più amici più case macchine vestiti eccetera ogni volta che viene raggiunto di più c'è il leggero calore della soddisfazione forse una certa ostentazione con i vicini di casa per intensificare la felicità guadagnando un punto su loro e un altro po' di soddisfazione e poi la novità ascema il nuovo bene posseduto diventa banale i sensi sono di nuovo a riposo in equilibrio subentra la stanchezza mentale la routine diventa noiosa e monotona per generare un po' di vita l'ego trova un altro obiettivo da raggiungere per procurarsi accitazione e piacere così la vita è una ricerca infinita di soddisfazioni personali di vario tipo lasciando l'anima nascosta affamata insoddisfatta ancora desiderosa di qualcosa di più ma che cos'è che il mio sei intimo desidera ardentemente vi domandate disperati quando una persona raggiunge una comprensione della vera origine del vuoto e del continuo desiderio interiore di di più di quello che mi ha fatto sentire bene in passato e inizia a meditare per creare un contatto con ciò che le ha dato esistenza un poco dell'equilibrio divino filtra attraverso la coscienza umana il senso di vuoto inizia ad allontanarsi se una persona simile cattura una vera visione fugace dell'eterno e del vero obiettivo della vita alla fine il desiderio di possedere altri beni morirà di morte naturale il desiderio di avere più beni sarà sostituito gradualmente da un sincero apprezzamento di ciò che uno già ha e da un senso di costante appagamento attraverso le esperienze degli interventi miracolosi o dell'attività della coscienza divina nella vita quotidiana la coscienza umana sarà molto elevata ed imparerà che le sue necessità quotidiane vengono soddisfatte nel migliore dei modi la fede cresce e la gioia si intensifica ecco perché vi ho detto non sono venuto a insegnarvi il pensiero positivo per attirare nella vostra orbita le cose che volete e di cui avete bisogno io sono venuto a voi espressamente per ricondurvi nel regno dei cieli tuttavia non è soltanto per la faccenda di desiderare altri beni per voi stessi che la vostra anima è bloccata dentro la sua dimora segreta l'ego usa anche la spinta emozionale e magnetica di repulsione e rifiuto per assicurare la vostra individualità intimità e sicurezza questo impulso assume numerose forme progettate per darvi una sensazione di superiorità o di elitarismo o per proteggervi da persone che considerate indesiderabili o inferiori a voi come posizione sociale questa spinta egoica viene praticata continuamente ed è stata considerata perfettamente accettabile persino dalle chiese la verità è quando l'anima inizia a conquistare un certo controllo sulla spinta egoica essa rimprovererà la personalità umana per il suo egoismo e la sua chiusura spingerà la psiche ad adottare l'amore incondizionato e da credere nell'universalità e unità di tutti gli uomini chiunque essi siano forse ora riuscite più facilmente a comprendere come e perché la creazione della vostra individualità per mezzo dell'ego abbia formato la grande capsula degli impulsi fisici che ha prodotto e racchiuso la vostra coscienza umana creando sia la vostra forma fisica sia la vostra personalità umana poiché essa governa la vostra mente e le vostre emozioni i vostri pensieri e i vostri sentimenti vi impedisce di creare un contatto con la sorgente della vostra vita e la vostra anima il vostro vero scopo nella vita è ottenere la padronanza del vostro ego rivolgendovi nei pensieri e nei sentimenti a ciò che intuite c'è dietro la creazione e chiedendo continuamente di essere illuminati questo è il primissimo passo che una persona deve fare verso quel momento glorioso in cui avrà il contatto con il divino per andare avanti poi attraverso una purificazione continua della spinta egoica verso il rientro in quello stato celestiale da cui è nata ed ha attinto la sua individualità la vostra anima e com'è avvenuta questa creazione dell'individualità? come ho detto in precedenza la coscienza universale raggiunse un punto elevato di contenimento reciproco e un'esplosione ebbe luogo che separò l'impulso di volontà creativa dall'impulso di propositi amorevoli che si separarono e divennero attivi all'interno della creazione come padre intelligenza madre amore visti come elettricità magnetismo attrazione repulsione vita riunificati in equilibrio come coscienza divina vita pertanto lungi dall'essere materia solida e imponderabile in realtà il mondo visibile è mente attività che opera sempre insieme all'attrazione repulsione emozionale magnetica conosciuta anche come adesione rifiuto padre intelligenza elettricità fisica e madre amore attrazione repulsione fisica magnetica insieme produssero un figlio l'ego questo impulso di individualità nacque e assunse forma costante e coerente all'interno delle energie e della creazione per assicurare che le varie forze elettriche espresse come protoni ed elettroni e il resto della banda di particelle scoperte con emozione dalla scienza non scappassero via ininterrottamente in uno stato distante senza forma ma fossero trattenute e controllate dall'impulso magnetico di adesione e rifiuto della madre amore per produrre forma manifesta la scienza potrà contestare i paragrafi precedenti poiché si è data tanta pena per descrivere i vari processi di adesione applicando delle terminologie differenti alle energie di adesione la scienza è libera di chiamare le energie di adesione o attrazione con qualunque termine desideri ma rimane il fatto che queste energie hanno preso forma dall'impulso grandioso e primario della madre amore la cui funzione primaria di coscienza è dare forma all'individualità l'impulso del padre vita intelligente dà slancio elettrico alla creazione l'impulso della madre intenzionalità amorevole dà l'adesione a trazione per contenere lo slancio elettrico e riportarlo sotto controllo all'interno dell'individualità l'impulso della madre intenzionalità amorevole dà l'impulso di repulsione e rifiuto per assicurare la sopravvivenza dell'individualità questo è il processo della creazione la scienza può accostarsi alla creazione soltanto come una spettatrice sebbene i suoi ambasciatori siano umani e sperimentino la vita essi stessi la mente umana non può fare altro che osservare ciò che è stato creato non può entrare nei processi intimi della creazione nascosti dentro la materia e i campi d'energia più basilari la scienza non sarà mai in grado di individuare con precisione il fattore motivante x che dà origine alle energie che hanno il controllo della creazione della forma individuale ma ciò che la scienza ha da dire in materia di creazione è di scarsa importanza per voi come individui la scienza non cambierà nemmeno di un pizzico il vostro stile di vita la vostra salute il vostro ambiente i vostri sentimenti e conseguimenti personali quello che dovete sapere e quello che sono espressamente venuto a dirvi è come sfuggire alla spinta possessiva protettiva egoistica datavi dall'ego per assicurare la vostra individualità e sopravvivenza e il vostro desiderio innato di ritornare alla gioia e felicità da cui tutto il creato ha preso vita questo vi fornisce questo vi fornisce la ragione per cui io originariamente veni sulla terra e vengo a voi in questo momento attuale per fare qualcosa che nessuno scienziato potrà mai fare per voi aiutare la vostra anima ad emergere dai confini del vostro impulso egoico per imbarcarsi in un nuovo programma di vita emotiva e di pensiero che esprimerà direttamente la vita della coscienza padre madre immesse in voi e in tutta l'umanità al momento del concepimento poiché l'ego stesso possiede la spinta elettrica dell'attività creatività e gli impulsi magnetici emozionali di adesione e rifiuto qualunque cosa nasca dalla spinta egoica per mezzo dei suoi pensieri sentimenti e azioni viene caricata di vita fisica elettromagnetica che produrrà delle forme di vita identiche che col tempo si manifesteranno nella vita del creatore ego queste forme create non solo si manifesteranno alla fine come esperienze ma disturbano anche il funzionamento dei processi fisici del loro creatore e sono all'origine di disagi fisici o virus o malattie perciò è motivo di grande gioia quando l'anime emerge dalla sua incapsulante coscienza umana dell'ego poiché la coscienza spirituale ascendente creerà le condizioni armoniose vivificanti che contiene in sé viceversa è motivo di tristezza quando la coscienza umana è sommersa sotto il controllo dell'ego producendo turbamenti sofferenze e tribolazioni sia nelle esperienze di vita sia nelle stesse condizioni fisiche pertanto io vi dico se non vi piace il vostro mondo voi avete il potere di cambiare le condizioni della vostra esistenza proprio dove vi trovate se avete la fede e la volontà costante di farlo ripeto in un'altra forma per catturare la vostra attenzione se andate avanti al vostro attuale livello di funzionamento e pensiero umano non sperimenterete altro che il vostro attuale livello di esistenza umana sarete obbligati a lavorare duramente per guadagnarvi da vivere assaliti da numerosi problemi quali povertà cattiva salute e dipendenze immobilizzati da una paura dominante esposti ad attacchi malintenzionati di ogni genere sarete oppressi dalle attuali condizioni finché non capirete come cambiarle questa è la vostra occasione d'oro per assumere il controllo delle vostre vite come mai prima ottenendo il controllo dei vostri pensieri e delle vostre emozioni dei vostri impulsi elettrici e magnetici i modelli delle vostre esperienze future perché voi siete come dei vasai che possiedono dell'argilla e ogni giorno modellate dei vasi e degli utensili per uso vostro la coscienza è l'argilla la sostanza con cui fate la vostra vita e ogni condizione che la riguarda voi voi soli modellate le vostre vite nelle forme che sperimentate con i vostri pensieri potete cambiare il vostro futuro personale se solo darete retta alle mie parole comprenderete le vostre vere origini crederete in esse e userete questa conoscenza nella vostra vita quotidiana voi potete influenzare il vostro ambiente le vostre case le vostre famiglie il vostro lavoro le persone che frequentate e persino le piante gli animali e il clima qualunque cosa teniate costantemente in mente prenderà forma pertanto è decisivo per il vostro sviluppo spirituale e per il vostro sviluppo umano personale comprendere perfettamente tutto quello che sto cercando di insegnarvi non pensate che queste lettere a voi presentate siano troppo difficili da capire per passare poi a qualche altro modo più facile di trovare felicità credetemi non esiste alcun modo vero e più facile per voi di trovare l'equilibrio e la felicità che cercate perché le mie parole descrivono la verità universale dell'esistenza e la vita con cui state attualmente costruendo o distruggendo le vostre vite nel contempo state certi che non sarete mai in grado di creare delle condizioni nuove per voi stessi finché non scoprirete perché e come avete continuato a creare delle condizioni distruttive e negative in passato tutto quello che state vivendo attualmente è stato creato e messo in moto da voi con i pensieri le parole e le azioni precedenti nel passato quindi non prendetevela per le vostre circostanze attuali poiché siete stati voi stessi a fare quello che è stata la causa delle vostre condizioni nel presente siate saggi pertanto e leggete queste lettere e dedicate tutte le vostre forze e tutta la vostra volontà per scoprire i mezzi che avete usato nell'ignoranza passata per rovinare la vostra vita in tempi andati poi fate i passi necessari per purificare la vostra coscienza potreste chiedere perché dovrei purificare la mia coscienza ve lo dico io voi non piantereste mai un campo di grano turco senza prima usare l'aratro per dissodare il terreno e poi l'attrezzatura per fare un terreno dalla trama fine e per spargere il fertilizzante nell'ignoranza potreste piantare tra le erbacce preesistenti in un terreno granuloso e dimenticare il fertilizzante e il vostro raccolto sarebbe scarso e irregolare così è quando tirate avanti nei vostri pensieri terreni egoistici e vivete interamente nella vostra conoscenza forza e volontà umane siete limitati in tutto quello che fate e da tutto ignari voi create proprio le circostanze che limiteranno il frutto dei vostri sforzi nel momento in cui comprendete da dove venite realmente cercate il potere a cui potete attingere per realizzare ogni singola cosa nella vostra vita e fate dei passi urgenti per togliere le erbacce purificando così il suolo della vostra coscienza attingerete al potere che impregnerà e farà prosperare le vostre esperienze e attività quotidiane potreste dire che il potere sia il vostro fertilizzante ma questo sarebbe totalmente inesatto e falso il fertilizzante è cibo chimico inanimato per la pianta mentre il potere cui potete attingere attraverso la meditazione quotidiana è la vita che rinvigorirà il vostro intero essere la vostra vita e persino le vostre piante e i mattoni delle vostre case e le vostre attrezzature ben al di là di quanto possiate attualmente credere le persone che hanno dedicato tutta la loro forza di volontà per vivere questa verità ne vedono i risultati innegabili nelle loro vite e il vedere intensifica la loro fede e determinazione così esse entrano in un circolo di beatitudine si meravigliano del fatto che gli altri possano resistere a questa verità e scegliere di rimanere fuori dall'armonia spirituale e terrena in cui è possibile vivere se siete pronti ad ascoltare e riflettere e meditare sulle pagine seguenti inizierete a comprendere ciò che è stato nascosto sin dall'inizio della creazione purificare la coscienza mentre fate tutto il lavoro molto necessario di purificazione mentale e emozionale usate le mie parole delle pagine precedenti che descrivono ciò che ha dato esistenza visibile a voi e a tutto il mondo per costruire una consapevolezza ed un contatto con la sua potente coscienza divina da quel contatto arriveranno l'ispirazione e la forza per compiere la purificazione più rapidamente mentre la purificazione avrà luogo sperimenterete una ritrovata felicità e soddisfazione in ogni area della vostra vita giornaliera riceverete anche delle indicazioni ispirate riguardo alla vostra vita giornaliera o durante la meditazione o come un raggio di luce nella vostra mente quando siete in pace e state pensando a qualche faccenda terrena se non disprezzerete e rifiuterete queste indicazioni ma le seguirete fedelmente e attentamente starete facendo i primi passi per diventare alla fine un grande capace coltivatore e miettitore di idee creative nel vostro ambiente tutto ciò che è connesso a voi sboccerà fiorirà prospererà tutto risponderà e vi benedirà con la novità della vita se vi disciplinate nella meditazione quotidiana con incrollabile devozione alla fine inizierete a sentire un risponso e un afflusso di ciò che vi ha dato esistenza e le parole che state usando assumeranno nuovo significato le parole saranno impregnate di vita universale sarete pieni di gioia e vi rallegrerete enormemente perché allora saprete che il potere è reale e attivo nella vostra mente e nella vostra vita arriverete a fare assegnamento con una fiducia sempre maggiore sul potere che inizia a manifestarsi nei vostri affari vorrete attirare altre persone nel vostro stato di armonia benedetta poiché gli altri ne saranno consapevoli e vi faranno delle domande non solo questo sperimenterete un nuovo tipo di amore fraterno e vorrete condividere con gli altri ciò che vi rende felici non posso sottolineare abbastanza questa verità questo bisogno di meditare già che sono tante le persone che rinunciano alla ricerca e all'autodisciplina dell'ascolto quotidiano prima di avere purificato totalmente la propria coscienza ed essere arrivati a quello stato di purificazione interiore così necessario per creare un contatto perfetto con la coscienza universale la sorgente del vostro essere quando create davvero il contatto accadono cose che sembrano miracoli questo è il principio del potere universale che assume forma e struttura nella vostra anima nel vostro corpo nella vostra mente nel vostro cuore e nelle vostre circostanze vi dico in vero che e potete fidarvi assolutamente delle mie parole se persevererete arriverà un momento in cui sentirete realmente il contatto e saprete di aver stabilito il contatto allora avrete raggiunto un momento molto cruciale nel vostro sviluppo spirituale umano per alcune ore tante anime si sentono elevate e gioiose ma poi le preoccupazioni quotidiane si intromettono nella loro mente ed esse intellettualizzano l'esperienza la giustificano in termini umani non fate questo poiché perdereste ciò che vi è stato dato rallenterete di molto i vostri progressi spirituali se state leggendo queste parole e avete paura di credere ad esse o credete che siano sciocchezze o sentite che perderete prestigio se credete ad esse starete creando una forma creativa nella coscienza che annullerà qualunque reazione costruttiva a questa lettera che possiate aver avuto originariamente così io vi dico serbate nel cuore i vostri momenti di fede proteggete i vostri tempi speciali di contatto con ciò che vi ha dato esistenza credete in essi e teneteli saldamente nella vostra coscienza e gradualmente andrete avanti verso le vette della coscienza spirituale verso grande intuizione e gioia di nuovo vi dico non mettete da parte queste lettere non posso evidenziare a sufficienza il vostro bisogno di riflettere su di esse di ricordare quello che hanno da dire se non riuscite a ricordarvelo allora ritornate a leggerle ancora di nuovo e di nuovo e ancora di nuovo finché non saranno state assorbite dalla vostra coscienza quanto più mediterete su di esse giornalmente tanto più saranno chiarite nella vostra mente e arriveranno ad avere un significato ancora più grande per voi alla fine scoprirete che sono state come nutrimento rafforzando il vostro morale e la vostra determinazione a cambiare le vostre attuali condizioni in quelle di armonia crescita estesa prosperità e pace grande ispirazione e gioia saranno vostre quando arriverete a rendervi conto che l'immensità di ciò che vi ha dato esistenza è potere statica rapita radiosa al di là della vostra attuale capacità di sognare e immaginare esso è realtà esso è la sorgente dell'essere la sorgente di tutto quello che vedete nel vostro mondo naturale vivente e ai molti livelli dell'esistenza oltre a quello in cui attualmente dimurate quando starete ricevendo abbondanza di coscienza divina nella vostra mente in voi stessi in ogni aspetto della vostra esistenza allora comincerete a vedere l'enorme differenza guarderete indietro ai tempi di stress e infelicità e vedrete che gradualmente le limitazioni della vostra vita avranno ceduto a una più grande beatitudine questo diverrà un processo continuo nella vostra vita siate fiduciosi sono davvero io il Cristo che mi rivolgo a voi e al mondo per mezzo di queste lettere desidero imprimere in maniera particolare nelle vostre menti il modo in cui nelle pagine precedenti ho deliberatamente fatto delle affermazioni per elevare i vostri pensieri ad un livello superiore di coscienza descrivendo i benefici che potete ottenere lavorando per elevare la vostra coscienza liberandola dagli aspetti negativi menzionati a pagina 2 di questa lettera voglio che vi rendiate perfettamente conto che io sono venuto soltanto per aiutarvi a liberarvi dai pensieri e dalle emozioni indesiderabili indotti dall'ego che attualmente controllano la vostra mente inoltre sono qui espressamente per incoraggiarvi e aiutarvi sì aiutarvi a sviluppare dentro la vostra mente e il vostro cuore tutti i pensieri e le emozioni basati sull'amore che vi porteranno in armonia con la coscienza divina il mio proposito più urgente e più amorevole è portarvi fuori dalle ombre grigie dell'esistenza in cui attualmente dimorate nella luce del sole dell'illuminazione spirituale che vi attende quando avrete dominato gli impulsi eroici vi sarete uniti con la vostra anima e con la vita padre madre e sarete entrati nell'armonia dell'amore incondizionato verso tutti pertanto ripeterò l'elenco di queste caratteristiche negative proposte nelle prime pagine di questa lettera voglio che le leggiate con attenzione e che osserviate le vostre reazioni e i vostri sentimenti mentre le ripassate lentamente criticismo sarcasmo giudizio e marginazione denigrazione ostilità intolleranza odio gelosia aggressività impulsi violenti ruberia falsità rapporti ambigui ed equivoci diffamazione come incominciare a liberarvi di quelle che sapete essere parte della vostra coscienza non vergognatevi troppo di affrontarle già che siete esseri umani e siete nati sotto l'influenza di queste caratteristiche dell'ego quindi non abbiate troppa paura o non siate troppo scoraggiati all'idea di affrontarle fate il primo passo in totale onestà e scrivetele su un foglio di carta il secondo passo è prendere il foglio di carta e sdraiarvi appoggiando il foglio sul vostro petto chiudete gli occhi e col pensiero rivolgetevi alla realtà divina la vostra sorgente dell'essere che come dovreste ora rendervi conto è il vostro amorevole procreatore il vostro vero padre madre spirituale che irradia spontaneamente e continuamente e costantemente amore parentale incondizionato prendetevi del tempo per acquietare la mente finché non sentite che state andando oltre la vostra coscienza poi chiedete aiuto con fede perfetta e aspettandovi una risposta immediata già che state operando nella coscienza per rimuovere dissolvere superare i falsi e inutili impulsi egoici di rifiuto per tutti i giorni a venire emotivamente rendete chiaro al vostro padre spirituale o realtà divina e pertanto a voi stessi che non volete più queste negatività dell'ego nella vostra coscienza chiedete l'ispirazione e la forza per fare ogni sforzo per evitarle o per rifiutarle da quel giorno in poi seguendo questa linea d'azione state creando una nuova forma di coscienza che inizia ora ad infiltrarsi e subentrare alla vostra attuale coscienza la vostra intenzione diventa ora la vostra realtà le caratteristiche negative precedenti scritte sul vostro pezzo di carta e portate al vostro padre spirituale sono adesso in un limbo di rifiuto nella vostra coscienza questo rifiuto consapevole è anche un mezzo per attrarre potere divino nella vostra coscienza per aiutarvi a rafforzare la vostra risoluzione e ricordarvi di scartare qualunque impulso che potrebbe spuntare dalle caratteristiche rifiutate perciò come potete probabilmente vedere la resa e la meditazione hanno messo in moto nella coscienza un lavoro invisibile di cui sarete forse inconsapevoli finché più tardi non diventerete consci del fatto che le caratteristiche sono scomparse vi incoraggerei calorosamente a portare varie volte in meditazione il foglio con le caratteristiche ogni volta che lo farete attrarrete nella vostra coscienza un'ulteriore iniezione di potere vitale della coscienza padre madre allo scopo di vincere e liberare la vostra coscienza dalle forme e forze di coscienza indesiderate quando saranno state dissolte esse non attireranno più nelle vostre circostanze le ombre negative e infelici che vi tormentavano in passato starete percorrendo un sentiero più elevato verso la libertà mentre andate avanti arriverete a percepire delle piccole imperfezioni di coscienza nella vostra mente e nel vostro cuore che non vi erano sembrate sbagliate mai prima e quando questo accadrà dovrete seguire la stessa procedura di annotarle e portarle con estrema fiducia al vostro padre spirituale ora c'è ancora un'altra cosa che dovete fare per completare questa ricostruzione della vostra coscienza invece di criticismo sarcasmo giudizio e marginazione denigrazione ostilità intolleranza odio gelosia aggressività impulsi violenti ruberia falsità rapporti ambigui ed equivoci diffamazione dovete scrivere su un pezzo di carta in lettere dorate se possibile per darvi una sensazione di bellezza e splendore riguardo a queste caratteristiche le qualità d'oro della coscienza divina dalle quali volete essere dominati e che volete esprimere in futuro per essere in perfetta armonia con la vostra realtà divina il vostro padre spirituale ogni caratteristica si baserà sull'amore incondizionato e promuoverà il bene supremo degli altri perché non cercherete più di umiliare gli altri per sentirvi più grandi e per aumentare la vostra autostima la vostra intera coscienza sarà rivolta ad affermare le altre persone e ad edificare ogni cosa dentro la vostra orbita cercherete di nutrire coltivare insegnare proteggere mantenere soddisfare i bisogni degli altri e con amore cercherete di stabilire l'ordine nelle azioni caotiche insensate avendo avendo annotato le vostre aspirazioni dorate sul vostro foglio di carta sdraiatevi di nuovo e rivolgetevi alla vostra realtà divina e chiedete che gli impulsi belli la natura del divino possano gradualmente diffondersi attraverso la vostra mente e il vostro cuore diventando la vostra propria coscienza quando questo accade la vostra avima sarà come un pulcino che becca e becca rompendo il suo guscio per emergere nella meraviglia del grande e vasto mondo per unirsi alla chioccia che con pazienza attende che il figlio si riunisca a lei così è con me e con tutte le altre anime cristiche noi aspettiamo e osserviamo e aiutiamo le persone che desiderano scoprire la causa del vuoto del loro spirito si impegnano a trascendere le proprie occupazioni terrene hanno la mente attratta da scopi più elevati nella vita e sognano di arrivare ad una sintonia perfetta con la propria anima e con la loro divina sorgente dell'essere ci struggiamo per i viaggiatori spirituali più di quanto i viaggiatori stessi sospettino questo significa che noi ci struggiamo d'amore per te che stai leggendo questa lettera quando sarete di nuovo uniti con la vostra sorgente dell'essere avrete ottenuto i vostri veri scoppi sulla terra avrete compiuto la vostra vera missione nell'eternità ed ora che la vita vera abbia inizio sarete entrati nel regno dei cieli non vi dirò quali qualità scrivere per la vostra nuova coscienza queste devono provenire dalle vostre attuali percezioni di ciò che considerate più elevato e migliore studiate di nuovo la natura divina della coscienza divina che io percepì così chiaramente nel deserto e che ho descritto per voi nella lettera 1 fate in modo che questa natura divina diventi la vostra stessa natura desidero che sappiate che quando vi imbarcherete in questo viaggio con totale sincerità io sarò al vostro fianco in ogni occasione il mio desiderio voi e vi sto mandando sostegno e forza nella vostra ricerca per riunirvi alla vostra realtà divina sul cristianesimo ora sto per parlarvi di argomenti più terreni e mentre leggete le pagine seguenti voglio che esaminiate ciò che accade al vostro stato d'animo o alla vostra sensazione di benessere questo è un altro esercizio per riconoscere quello che avviene nella usate un nuovo assortimento di parole per favore leggete le prossime pagine con grande attenzione sia che professiate la religione cristiana o meno anche se potreste essere fortemente tentati di saltarle annotate le vostre reazioni le vostre idee i vostri sentimenti in particolare tutti i sentimenti cangianti di depressione o piacere prendete nota del numero della pagina dove le parole iniziano ad alleviare il vostro stato d'animo ed elevarvi a un più alto livello di pace e felicità questo è un esercizio importantissimo poiché se non lo fate continuerete per sempre a leggere della coscienza ma non raggiungerete mai una comprensione profonda di come essa sia l'energia di base della vostra esistenza della materia del vostro corpo e del vostro ambiente degli eventi della vostra vita dei vostri stati d'animo e delle vostre aspirazioni spirituali non incomincerete nemmeno a rendervi conto che la coscienza è il principio e la fine e il tutto nella vostra esistenza e nella vostra esperienza finché non noterete come le idee e le opinioni possono elevare o abbassare le frequenze di vibrazione della vostra coscienza voglio che diventiate consapevoli delle parole che usate nella vostra vita quotidiana della qualità della vita che esse creano per voi e dell'impatto che hanno sugli altri o elevando il loro stato d'animo alla pace e alla gioia o lasciandoli depressi e svuotati inoltre ho una seria intenzione di raggiungere coloro di voi che attualmente professano la religione cristiana e stanno lottando con condizionamenti religiosi passati o presenti trovando quindi difficile districare le loro percezioni dal dogma per muoversi liberamente nelle più sottili frequenze vibrazionali della conoscenza spirituale più elevata può darsi che temiate la dannazione se anche solo leggete queste pagine eppure esse hanno un potere d'attrazione su di voi e intuitivamente sentite che state leggendo della verità dell'esistenza che non vi è stata insegnata dai vostri ministri del culto siete straziati dal vostro bisogno pressante di conoscere la verità e dalla vostra paura di dispiacere a dio qualunque sia la forma in cui lo percepite in questo momento io il cristo sono ben consapevole dell'angoscia che queste lettere stanno causando a molte persone sincere e desidero condurvi attraverso la vostra inquietudine ad una perfetta pace della mente e alla gioia per questo motivo è assolutamente necessario analizzare le vostre credenze attuali e le origini delle dottrine della chiesa prima che continui a insegnarvi la verità più profonda riguardo alla natura dell'universale e la natura dell'uomo stesso per comprendere pienamente le origini della dottrina cristiana dovete viaggiare indietro nel tempo agli inizi del giudeismo e trovare lì le razionalizzazioni della mente parole ciò che sentiva intuitivamente essere una probabile sorgente dell'essere quelli di voi che stanno lottando per liberarsi dai miti passati e dalle credenze erronee devono ora arrivare a percepire chiaramente da sé e comprendere la fondamentale differenza fra una credenza della chiesa e la verità dell'esistenza che sto attualmente tentando di spiegarvi finché non sarete in grado di discernere chiaramente l'origine e la forma delle vostre attuali credenze non sarete in grado di liberarvi completamente dalle illusioni del vostro condizionamento passato nell'ambito della chiesa avrete il piede in due staffe una posizione pericolosa in cui trovarsi questo stato d'animo causerà grandi conflitti mentali e potrà indurvi ad abbandonare la ricerca e ritornare alle vecchie forme religiose comode ed emotivamente sicure che non vi portano quindi state attenti e non lasciatevi intimidire dalle minacce di recare e dispiacere a Dio o di una probabile dannazione le origini di una credenza in una super divinità individuale perciò partiremo da una descrizione delle origini della credenza in Dio un nome che ha significato molte diverse cose per l'umanità questa credenza ebbe inizio quando gli ebrei antichi camminavano nelle pianure desertiche interrogandosi sulle origini della creazione si immaginò che in qualche modo la sorgente della creazione dovesse per forza essere un uomo Dio superumano invisibile che trascendeva di granunga la terra e l'umanità alcuni degli antichi profeti erano misticamente consapevoli che la sorgente della creazione era diffusa e presente in qualche modo in tutto il creato e si trovava anche nella dimensione eterna ma questo misticismo non era accessibile alla mente umana comune dovete anche capire che nonostante l'attuale realtà apparente nelle vostre menti di un Dio simile basata sulle vostre letture della Bibbia nessuno ha mai visto anche fugacemente un tale uomo Dio superumano in una forma qualsiasi eccetto forse Mosè che dichiarò che lo aveva visto in un cespuglio in fiamme e che si era descritto come io sono ciò che io sono tutto quello che gli uomini hanno saputo su un Dio superumano del genere è stato tratto dalla lettura delle descrizioni pittoresche di Dio date dai profeti durante il loro soggiorno sulla terra il fatto che gli zelanti della religione si rifacciano solo agli antichi per la loro verità perché non possono credere che Dio sia davvero reale eterno e ugualmente in grado di parlare agli uomini dei vostri tempi è una dimostrazione dell'illusorietà delle credenze religiose i vostri ministri del culto sono terrorizzati da ogni credenza che non si fonda con le vecchie non prendono mai in considerazione o hanno paura di considerare che forse la conoscenza spirituale nella dimensione terrena è evolutiva voglio che voi vediate che è stata architettata una struttura di credenze un miscuglio di razionalizzazioni e credenze per creare una rete di sicurezza mentale emozionale con cui irretire e intrappolare le menti e i cuori degli uomini tutto quello che viene insegnato alla gente nella fede cristiana ha basi emotive ed emana dal sentito dire tratto da resoconti antichi della mia vita e morte sulla terra eppure ci si crede in maniera fanatica ai cristiani viene insegnato che Dio è amore e Dio è consapevole dei vostri peccati e punisce disciplina ricompensa chi fa del bene e manda disgrazie ai malfattori questa è una descrizione esatta dell'attività umana e della coscienza umana ai cristiani viene insegnato che io il Cristo nella persona di Gesù morì per i peccati del mondo io ero l'agnello di Dio senza macchia sacrificato per pagare il prezzo per il peccare degli uomini feci il supremo sacrificio di me stesso per compiere questa strana impresa del pagamento dei peccati attraverso i secoli entrai di nuovo nel mio corpo dopo la morte per crocifissione e apparvi molte volte nel corpo per portare conforto e insegnamenti ai miei discepoli in lutto mangiai persino del cibo durante le mie apparizioni a loro dopo 40 giorni ascesi fuori dalla vista dei miei discepoli portando il mio corpo su in cielo come ho chiesto nella lettera 3 che cosa me ne farei di un corpo umano in cielo nella vita dell'aldilà poiché avevo detto durante la mia ultima cena con i discepoli che essi avrebbero dovuto ricordare il mio ultimo pasto con loro spezzando il pane e passandoselo l'un l'altro e ognuno bevendo dallo stesso carice divino per ricordare che il mio corpo era stato crocifisso e il mio sangue versato per portare loro la verità dell'essere questo episodio fu convertito nella bizzarra credenza che con pompa e cerimoni all'altare il mio corpo veniva trasferito in ostie che i comunicandi dovevano ingoiare con tutto il dovuto rispetto il mio corpo a che servirebbe al comunicando il mio corpo spiritualizzato o no riuscite a vedere come la mente possa essere condizionata in modo da accettare un'assurdità illogica che può resistere per quasi duemila anni perché sostenuta da una grande gerarchia di papi cardinali che vivevano nei palazzi e immense ricchezze e mantenuta in pompa terrena e in prestigiose circostanze cerimoniali voglio che voi sappiate la verità su quella sera fatale che chiamate la mia ultima cena sebbene mi sia doloroso farlo per amore di una maggiore chiarezza mi sono abbassato nelle frequenze di vibrazione di coscienza fino all'esatta memoria conscia dei miei pensieri e sentimenti durante l'ultimo pasto con i miei discepoli sebbene fossi un uomo forte illuminato è certo di avere un destino da compiere che non potevo evitare non volevo evitare io ero anche profondamente triste quando iniziamo il nostro pasto la cena di pasqua i miei discepoli erano stati miei amici ed erano stati al mio fianco in alcune circostanze difficili ero rattristato dal doverli lasciare e temevo per il loro benessere che cosa sarebbe successo loro quando si sarebbero trovati soli senza la mia guida e protezione erano dipesi da me più di quanto sapessero mi ricordavo gli anni passati a insegnare agli uomini con un profondo senso di eronia ricordavo il mio ritorno dal deserto sporco e trascurato ma letteralmente posseduto dal mio gioioso interesse per i miei simili e intensamente eccitato perché ora potevo dirigere loro passi sul sentiero giusto fissare nelle loro menti la verità riguardante l'esistenza mostrare loro come superare le loro paure le loro malattie la loro povertà la loro sofferenza avevo intenzione di conquistare il mondo ma quanto diversamente era andato il tutto l'indomani sarei stato appeso ad una croce era vero tuttavia che avevo ottenuto molto successo tornai con la memoria ai casi di guarigione e alla gioia con cui la gente aveva accettato il padre amorevole riuscivo a comprendere perché il sommo sacerdote e il consiglio mi odiassero invece della paura della punizione e dei sacrifici animali avevo portato agli uomini la realtà dell'amore paterno dimostrandolo con la guarigione di casi terminali riportai la mia attenzione ai miei discepoli che stavano parlando fra loro mentre mangiavano erano ancora ignari della sfida che mi attendeva la mia crocefissione sebbene li avessi avvertiti ripetutamente si rifiutavano di accettare le mie parole come verità credevano che avessi cominciato ad aver paura del sommo sacerdote e se ne domandavano il motivo mi ero già districato da situazioni minacciose in passato com'era d'uso a Pasqua essi stavano rievocando le circostanze della fuga del popolo ebraico dall'Egitto Giovanni che aveva una fervida immaginazione stava facendo loro un resoconto vivace di Mosè che chiamava raccolta gli ebrei e diceva loro che finalmente avrebbero lasciato l'Egitto fuggendo dalla loro vita di schiavitù nella libertà nel deserto per questo motivo Mosè ordinò a ogni capofamiglia di uccidere un agnello senza macchia e con un fascio d'erba dipingere col suo sangue gli stipiti delle proprie dimore Mosè disse che nella notte sarebbero arrivati degli angeli che avrebbero volato attraverso l'Egitto uccidendo i primogeniti di tutti gli egiziani e del bestiame risparmiando solo i primogeniti degli ebrei che sarebbero stati salvati dal sangue sugli stipiti ascoltandoli e vedendo loro sorrisi e i cenni di assenso per questo mirabile evento mi resi conto con una fitta di angoscia quanto poco essi avessero davvero compreso la mia descrizione del Padre Celeste udì le parole di Giovanni riguardanti sangue 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 dell'agnello senza macchia sangue sugli stipiti sangue dei bambini egiziani e del bestiame come sempre mi meravigliai del coinvolgimento secolare degli ebrei con il sangue e brevemente mi ricordai che Abramo era stato persino pronto a sacrificare il suo unico figlio proponendosi di massacrarlo e offrirlo in sacrificio perché credeva che Dio gli avesse detto di farlo poi pensai ai sacrifici quotidiani di animali nel tempio per me l'intero concetto di versamento di sangue come un modo di pagare per i peccati era un'assoluta infamia ma rimasi in silenzio senza discutere con gli uomini mi resi conto che le loro menti erano piene di queste tradizioni tanto solide e durevoli quanto la roccia questa fu la nostra ultima cena insieme il nostro ultimo pasto tutti insieme allo stesso tavolo doveva essere un momento di pace tra di noi e un addio amorevole tanto più memorabile per i miei discepoli perché la Pasqua era un evento talmente sacro per le loro menti ebraiche e io dovevo accettare questo con uno spirito d'amore e di comprensione in precedenza non avevo celebrato la Pasqua ebraica in quanto quella tradizione mi disgustava preferivo andarmene sulle colline a meditare in silenzio lasciando i miei discepoli a celebrare la Pasqua con le loro famiglie a causa dei miei precedenti atteggiamenti essi non si meravigliarono del mio attuale silenzio ora stavo mezzo sdraiato mezzo seduto incapace di rilassarmi come facevo di solito teso agitato compassionevolmente affettuoso verso i miei discepoli eppure quasi seccato con loro mi chiedevo come avrei potuto lasciare a questi seguaci confusi sonnolenti un efficace simbolo di rimembranza qualche rituale per riportare alle loro menti confuse tutto quello che avevo cercato di insegnare loro volevo scuoterli dalla loro sanguinarietà mentre ascoltavo i loro discorsi su Mosè e sulle sue varie azioni miracolose mi sovvenne che se erano così assillati dal sangue allora sangue avrei dato loro per ricordarmi mi chinai sul tavolo e presi un filone di pane e lo spezzai in parecchi pezzi e dissi piuttosto bruscamente io sono come il vostro agnello pasquale distribuitelo prendete la vostra parte mangiate e fate questo in memoria di me che vi ho portato l'unica verità reale che il mondo abbia mai sentito che questo pane sia il simbolo del mio corpo che sta per essere spezzato sulla croce essi smisero di parlare e mi fissarono avanti mangiate dissi loro come in sogno in silenzio essi presero un pezzo di pane e lo fecero girare masticandone un po' poi afferrai un ampio carice di vino e dissi loro di berne e di farlo girare questo vino è un simbolo del mio sangue io sono venuto a portarvi la verità la verità su dio la verità sulla vita ma sono stato respinto il mio sangue fluirà per voi di nuovo in silenzio essi bevero dal calice passandolo all'uomo successivo i loro volti erano tesi ma non dissero nulla era ovvio che tutti erano scossi dalle mie parole che non piacevano loro sapevo che giuda aveva ricevuto dei soldi per indicarmi ai soldati del sommo sacerdote quando sarebbe arrivato il momento giusto sapevo inoltre che la notte di pasqua sarebbe stata la notte dissi a giuda vai presto e fa quello che devi fare giuda mi guardò per un lungo attimo e nei suoi occhi vidi il dolore e l'indecisione ci stava ripensando ma il mio momento era arrivato e volevo che fosse fatto e finito vai dissi severamente giuda si alzò e lasciò la stanza i discepoli furono stupiti da come avevo parlato e chiesero quale fosse quella cosa che egli intendeva fare sta andando dal sommo sacerdote a dirgli dove trovarmi essi intendono crocifiggermi proprio come vi ho detto con un certo cinismo doloroso osservai le varie espressioni sui loro volti dubbio shock orrore poi ci fu uno sfogo di interrogativi pieni di risentimento che cosa ne sarebbe stato di loro essi avevano abbandonato casa e famiglie per me avrebbero perduto una vita di libertà e sicurezza se io fossi stato crocifisso come un delinquente comune dissi che loro mi avrebbero abbandonato essi negarono con veemenza una cosa del genere ma lo fecero ero troppo stanco per discutere con loro ed ero diventato talmente forte talmente sicuro nella conoscenza che il padre era dentro di me e con me in ogni momento da poter permettermi di perdonare la loro infedeltà e alla fine di tutto sarei stato liberato dal mio corpo e in grado di ascendere nei regni di luce che tante volte avevo percepito senza tuttavia vederli mai completamente con la mia visione terrena fu un pensiero che mi diede profonda consolazione e una sensazione di felice attesa così sorrisi loro e dissi è bene che abbiate fatto ciò che vi ho chiesto in memoria di me e della mia morte che sta per giungere continuate a spezzare il pane e bere il vino insieme ricordandovi che io vi ho amati sempre e rimarrò sempre con voi in ispirito finché non vi unirete a me lì dove io vado non temete sarete guidati sarete ispirati sarete resi forti e parlerete con voci chiare chiare il mio unico avvertimento è questo in futuro molto di quello che vi ho insegnato sarà dimenticato gran parte di quello che vi ho raccontato verrà scartato dai ragionamenti del pensiero umano o alterato dai miti umani allora ci fu panico e un vocio come può essere sorrisi ed alzai le mani vi ho detto ciò che accadrà nel lontano futuro nel frattempo siate fedeli a tutto quello che vi ho insegnato e non dubitate di una sola parola che vi ho pronunciato poi fu il momento di andare nel giardino degli ulivi il luogo in cui i soldati del sommo sacerdote mi avrebbero cercato i miei discepoli volevano fare altre domande ma ora avevo raggiunto la fine dei miei discorsi con gli uomini volevo solo prepararmi in totale silenzio alla mia prova del fuoco entrando in spirito in uno stato d'armonia e di comunicazione sicura costante con il padre entrammo camminando nel giardino e mi ritirai presso la mia roccia preferita al riparo dal vento mi sedetti e mi avvolsi nel mio mantello chiudendo gli occhi gradualmente mi sentii scivolare in una grande quiete interiore di spirito e un silenzio potente poi il potere stesso discese e si impose su di me prendendo possesso della mia mente e del mio cuore mi colmò di un amore supremo tale che seppi di essere sorretto e sostenuto nell'amore e che potevo conservare il mio amore per tutti qualunque cosa mi fosse successa era l'unica cosa che importasse adesso che era arrivata la mia ora questa è la verità dietro lato di spezzare il pane e bere il vino in memoria di me della mia vita e dei miei insegnamenti e come sapete voi che state leggendo questa lettera tutto quello che il padre mi diede da sapere durante la mia ultima sera sulla terra si è avverato siccome io parlavo del padre del figlio e dello spirito santo la chiesa decise nel concilio di nicea che dovevo essermi riferito a tre persone in una di conseguenza gli uomini pregano il padre per chiedere dei benefici implorano lo spirito santo di istruirli spiritualmente e pregano il figlio di salvarli dai loro peccati riuscite a iniziare a vedere quanto terrenamente e umanamente concepite siano queste credenze riuscite a capire anche quanto siano basate sull'emotività grazie all'emotività e alla promessa di un viaggio gratuito in cielo alle calcagna del salvatore le credenze sono diventate una struttura religiosa umanamente concepita per conservare l'impero della chiesa nell'ambito degli imperi terreni roma austria spagna sono state la giustificazione di torture di massa e morte sul robo ed esecuzioni di dissidenti hanno ispirato guerre tra nazioni ma la percezione spirituale e la creatività derivanti da alcune delle credenze hanno anche dato un grande contributo all'esistenza negli ultimi due millenni queste credenze sono state le ragioni per costruire cattedrali e chiese monasteri e conventi dando alle persone uno scopo stabile e la possibilità di esprimere loro talenti artistici e fornendo lavoro per i meno dotati le credenze hanno anche guidato la coscienza di milioni di persone verso i regni più elevati del bel pensiero e dell'amore sono persino state l'impulso dietro il misticismo e l'illuminazione quando le anime spirituali sono arrivate a vedere la realtà in precedenza nascosta dalle credenze mentre accadeva tutto questo le credenze hanno creato inoltre le condizioni per lo sviluppo di classi gerarchiche di superiorità religiosa e incommensurabile grandiosità e ricchezza questi sono edifici degli impulsi eroici umanamente concepiti e creati e sono pertanto da un punto di vista spirituale totalmente spurri la verità riguardo al peccato bisogna anche capire che nel corso dei secoli gli uomini avevano percepito che alcuni aspetti del comportamento umano erano dannosi al benessere altrui avevano testimoniato come le uccisioni e il rubare la moglie o i beni di un altro causassero molto dolore e angoscia nella comunità rendendo la vita difficile e da volte intollerabile si valutava razionalmente che un comportamento del genere doveva essere contrario alla volontà di quello che essi chiamavano Dio diedero a questo comportamento il nome di peccato e lo definirono il male alla fine i loro profeti valutarono che un comportamento così abberrante doveva scaturire da una forza malvagia opposta a Dio e la chiamarono Satana si minacciavano e si punivano a vicenda credendo che i peccati fossero il male e che il loro Dio avrebbe punito gli uomini per le loro malefatte contro l'un l'altro questo comportamento è praticato ancora oggi nelle chiese i sacerdoti cercano di controllare la gente per mezzo della paura il concetto di peccato contro Genova il creatore eterno e infinitamente potente era un metodo furbo ed efficace per controllare gli altri le credenze della chiesa sono un tragico travisamento di tutto quello che cercai di insegnare agli uomini in palestina fu Mosè a serbare per primo la credenza nel peccato e nella punizione nella forma dei dieci comandamenti Mosè disse che gli erano stati dati da Dio e che se gli israeliti li avessero infranti avrebbero dovuto subirne la punizione in alcuni casi questo significava morte per lapidazione agli israeliti fu insegnato che infrangendo le leggi essi avrebbero peccato contro il loro Dio la verità esatta è che Mosè andò sulla montagna a pregare per trovare un mezzo per controllare gli ebrei indisciplinati in risposta alla sua preghiera i dieci comandamenti gli vennero dati come ispirazione per aiutarlo nel suo compito di condurre gli israeliti sani e salvi attraverso il loro soggiorno nel deserto con il minimo grado di guai e agitazioni i fanatici del culto sono felici di accettare e credere di tutto cuore in un Dio che presumibilmente incaricò Mosè di dedicarsi a procedure aggressive e massacri per conquistare la terra promessa una terra bella e produttiva venne portata via senza pietà a uomini laboriosi che furono uccisi a migliaia questa fu considerata la cosa giusta da fare dato che Dio aveva promesso loro una bella terra in cui stabilirsi ancora oggi gli zelanti della religione credono che siccome Dio aveva parlato a Mosè doveva essere stato Dio a ordinare lo spargimento di sangue conseguente nella vostra Bibbia ci sono molte orribili descrizioni analoghe di guerre e massacri considerati permissibili giusti e legittimi perché si credeva che Dio avesse ordinato loro di andare in guerra contro i gentili non riuscite a vedere nella storia degli ebrei la spinta egoica dilagante in cui persino Dio viene usato per dispensarli dalla colpa nel momento dell'esaltazione della propria potenza diventava permissibile ed equo ignorare i dieci comandamenti e abbandonarsi ad uno sterminio di massa essi credevano che non ci fosse alcun peccato in quanto il massacro era stato ordinato da Dio che Dio non riuscite a percepire inoltre perché fu necessario che io nascessi in Palestina per vivere in mezzo agli ebrei nello sforzo di aiutarli a vedere che le loro credenze e pratiche tradizionali erano tutte contrarie alla natura stessa della coscienza divina che in verità aveva dato loro l'esistenza da allora attraverso i secoli gli uomini hanno combattuto con il concetto di peccato e molte persone sincere si affliggono per il modo in cui offendono Dio e pregano per il perdono molto tempo fa si sacrificavano innumerevoli animali nel tempio a Gerusalemme per pacificare Dio e per sfuggire se tutto andava bene agli effetti dei peccati commessi da allora sono stati scritti innumerevoli libri sull'argomento esprimendo dolore e orrore per la condizione delle anime degli uomini cercando dei modi per cambiare il loro comportamento battendosi con fruste per torturare la carne per farle pagare per le sue malefatte nel pensiero nelle parole e negli atti e molti di questi libri sono stati approvati dai cristiani in tutta Europa e conservati negli archivi di istituti religiosi essi legano gli uomini alla mia antica persona di Gesù predicando la salvezza dell'uomo dalla punizione per i suoi peccati per mezzo della mia morte sulla croce come ho spiegato altrove queste credenze sono fisicamente impossibili e contrarie ai fatti della creazione nessun pagamento per il peccato viene estorto da qualche divinità superiore questo è un concetto interamente umano e pagano ogni spargimento di sangue di qualsiasi genere ai fini diritti religiosi è paganesimo la chiesa cristiana ha presentato ai suoi seguaci niente di meno che una versione glorificata del paganesimo quando gli uomini in qualsiasi modo rendono infelici altre persone essi stanno creando ciò che sarà restituito loro in futuro non come punizione bensì come un'attività di creazione della coscienza pertanto è una questione di grande urgenza che queste credenze nel peccato e nella salvezza per via della mia morte sulla croce vengano fortemente combattute e sostituite dalla comprensione spirituale fornita in queste lettere prima di abbandonare questo argomento delle doctrine religiose voglio rendere chiaro che nel corso dei secoli alcuni ricercatori spirituali nell'ambito della chiesa cristiana hanno purificato la propria coscienza abbastanza da diventare fortemente consapevoli del potere che hanno chiamato Dio e sono giunti a riconoscere che la sorgente dell'essere non è come viene insegnato dalla chiesa ma soltanto poche persone sono state abbastanza evolute spiritualmente da andare oltre i parametri delle credenze religiose per sentire il pieno afflusso del potere già che la grande maggioranza degli uomini riesce a concepire la verità solo nell'ambito di una terminologia umana io il Cristo devo dirvi che fino ad oggi neanche uno di tutti i santi ha nemmeno intravisto la realtà della creazione e la verità dietro i comportamenti umani così come la sto presentando a voi adesso sicuramente è arrivato il momento in cui deve esservi detta la verità riguardo al peccato e al comportamento umano ed a quello che gli uomini stanno attualmente facendo al mondo e a se stessi a patto che abbiate abbandonato totalmente gli antichi miti della dottrina religiosa siate ore impazienti e ricettivi e contenti di aprire completamente i vostri cuori alle realtà dell'esistenza se non siete nulla di queste cose allora quello che ho da dire non avrà alcun significato per voi credetemi voi non potete mischiare le vostre vecchie credenze religiose con la verità dell'esistenza se cercherete se cercherete di farlo potete stare certi che non state vedendo la verità ma solo il vostro adattamento di ciò che credete di aver ricavato da queste pagine se continuerete a cercare la verità dell'esistenza ma rimanete in uno stato diviso di convinzione potrete continuare la ricerca a caro prezzo per voi stessi lacerati dall'indecisione dalla paura e dalla continua incapacità di percepire il vero significato del nuovo insegnamento le vostre percezioni crescenti saranno parzialmente oscurate dai messaggi che scaturiscono dai vecchi condizionamenti della vostra mente conscia e subconscia potreste non rendervi conto dell'enormità di questo problema in questo momento ma si tratta di un problema tremendo in quanto le vostre attuali credenze profonde sono la vostra attuale verità su cui costruite la vostra vita quotidiana sono la vostra realtà le vostre convinzioni e credenze fortemente radicate possono essere totalmente illusorie ma se nel vostro subconscio credete pienamente in esse allora esse diventano assolutamente reali per voi per quanto avvincenti per la vostra attenzione possono essere le nuove idee che contraddicono le vostre credenze la vostra coscienza sarà divisa e vi causerà enorme disagio persino angoscia ricordatevi la vostra coscienza è il tessuto con cui fate le vostre vite questo tessuto della coscienza è il terreno di ogni vostra reazione ad ogni singola cosa che accade nelle vostre vite mentali emozionali e fisiche la vostra coscienza è la vostra realtà questa affermazione può essere espressa in due modi entrambi dei quali sono la verità della vostra esistenza la vostra coscienza crea la vostra realtà indipendentemente da quali possano essere i fatti effettivi della vostra vita terrena quando gli uomini credevano che la terra fosse piatta essi avevano paura di avventurarsi troppo lontano sull'oceano per timore che la nave cadesse oltre l'orlo gli uomini che credevano in una terra piatta vivevano secondo quella credenza quando Galileo disse che la terra era rotonda egli fu considerato un eretico ma la sua percezione della rotondità della terra ha permesso ai marinai di avere un nuovo sguardo sul mondo e partire alla scoperta di ciò che c'era dall'altra parte dell'oceano c'è voluto un cambiamento nelle loro credenze per renderlo possibile voi siete in una posizione simile per quanto riguarda queste lettere quelle persone che non danno credito ad esse e le mettono in ridicolo sono come le persone che credevano in una terra piatta e avevano paura di cadere oltre l'orlo se avessero navigato troppo lontano a ovest o ad est del loro ambiente conosciuto i loro orizzonti erano severamente limitati dalle loro false credenze così anche gli orizzonti di quelle persone che credono che il mondo sia solido sono severamente limitati giorno dopo giorno si lamentano si affliggono per le disgrazie che sono capitate nel mondo credendo che non ci sia alcuna via di fuga da esse ma le persone che riescono ad afferrare e accogliere la verità della coscienza che io sto attualmente dando al mondo sono come quelli che percepivano che era possibile viaggiare sugli oceani illimitatamente in ogni direzione posto che avessero la volontà di intraprendere un viaggio del genere pertanto lo stato della vostra coscienza è la considerazione più importante nella vostra vita non le vostre relazioni o i vostri possedimenti o la vostra posizione nella vita prendetevi cura della vostra coscienza e le benedizioni in tutti gli aspetti della vostra vita seguiranno con la vostra coscienza nutrite voi stessi con amore e armonia interiori con gioia e bellezza persino nelle strade dei bassi fondi con una coscienza simile vi troverete ad essere spostati dalle strade dei bassi fondi in un ambiente che è in armonia con il vostro sé interiore è così che voi risalite dalle circostanze spiacevoli in base a quanto sopra dovreste essere in grado di vedere ora che siete soltanto voi a creare la qualità del vostro mondo interiore sia che esteriormente vi troviate in prigione o a comando di una corazzata e potete arricchire il vostro ambiente irradiando in esso la forza vitale che anima il vostro pensiero e ripeto la vostra coscienza non vostro marito o moglie figli casa giardino beni qualifiche posto di lavoro amici è la vostra realtà perché qualunque sia il posto buono cattivo che le vostre persone e i vostri beni occupano nella vostra coscienza questo posto è soltanto la vostra percezione personale di essi la realtà di queste persone non è veramente conosciuta nessuno nessuno ha accesso alla bontà innata nascosta in un carattere apparentemente negativo viceversa nessuno può sospettare gli impulsi e i desideri nascosti di un essere umano apparentemente buono la vostra vita esteriore non fa altro che ortare contro la vostra coscienza non crea o determina non può creare o determinare le vostre reazioni consce voi siete i creatori delle vostre reazioni il carattere delle vostre creazioni dipende interamente dalle vostre percezioni e credenze più profonde riguardanti l'esistenza inoltre voi potete in qualsiasi momento scegliere di smantellare gradualmente il vostro mondo interiore passato per creare un regno interiore più armonioso di amore vitalità e gioia crescenti anche se i vostri oggetti esterni persone o beni rimangono uguali il potere spirituale del tessuto della vostra coscienza sarà irradiato all'esterno e verrà assorbito dalle persone dalle piante e dai mattoni e dalla calcina nelle vostre immediate vicinanze ci saranno dei cambiamenti e miglioramenti sicuri in tutto quello che entrerà nella vostra orbita è il vostro destino in questa vita o nelle vite future giungere a questa realizzazione piena e completa quando lo farete metterete piede sul sentiero della padronanza di sé e poi gradualmente andrete avanti per diventare un vero maestro del vostro mondo della coscienza umana compenetrato e assistito dalla coscienza divina io il Cristo vi raccomando questa lettera vi ho fatti entrare in pieno possesso di alcuni degli importanti fatti della creazione che vi metteranno in grado di trascendere l'ego il guardiano della vostra individualità per ritornare all'universalità dell'essere da cui provenite realmente avete tra le mani il mezzo con cui potete entrare nell'amore incondizionato nella gioia e nella realizzazione personale ricordatevi che io ho detto che desidero ardentemente il progresso del viaggiatore spirituale mentre avanzate lungo il sentiero che ho tracciato per voi ci saranno dei momenti di conferma che io sono davvero con voi nel vostro viaggio li vedrete mantenete la vostra fede in essi in ogni momento vi sostengo nell'amore divino poiché io sono amore divino in azione credeteci e trovate e riposo nella mia coscienza che vi abbraccia